Musica Ciao a tutti amici e bentornati in 7 Days to Die, The Survival World Crafting Game Come al saluto io sono Amorush Vidal, benvenuti in questo nuovo video Andiamo subito in game amici Eccoci in game amici Dunque, siamo nel nostro rifugio O semi-rifugio, che ben si voglia dire E sono le 22.35 di notte Quindi direi di approfittare adesso per sistemare un po' il personaggio Roba veloce Innanzitutto ho trovato questa bandana e me la sono messa che non fa mai male Poi, poi, poi Ho messo la temperatura in gradi, cosa che avevo già fatto E che nella scorsa puntata erano in Fahrenheit perché ho dovuto formattare Quindi va bene, ok Comunque, chi se ne frega Abbiamo, grazie alle costruzioni che ho fatto E che vi farò vedere tra un po' Abbiamo 30 punti a Viable da spendere E ovviamente Il consiglio è appunto nello spenderli in Quality Jew Però, come vedete Non ne abbiamo a sufficienza Quindi, vedete che Purtroppo non ci fa prendere questo Cosa serve il Quality Jew Serve per trovare, ovviamente, nuove possibilità di crafting Anzi, scusate, possibilità di loot più avanzata Sto dicendo di crafting In realtà di loot Sento degli strani esseri fuori Per cui vado fuori a vedere E intanto vi faccio già vedere una cosa In questo buio qua che c'è Adesso accendiamo la luce Con la F Accendete, grazie ai vostri commenti Non mi ricordo più di chi qualcuno me l'ha detto È il Mining Helmet Cioè, so chi me l'ha detto Ma non mi viene il nome Intanto avete visto qualcosa Ma ve lo farò vedere dopo Intanto guardate qua Ho fatto e sto facendo Appunto il piano Che servirà poi per tenere lontano gli zombie Ecco una cosa Mi avete detto Mi avete detto Eamon, però se metti il piano così Non riesci a sparare agli zombie Che hai sotto casa Verissimo Però dovete contare Che la mia intenzione è quella Di fare una barriera tutto attorno Quindi gli zombie saranno fermi Nella barriera E noi gli spareremo Quindi questo è quanto Quindi è per quello Che faccio questa costruzione In più Sempre qua In questo piano qua Presumo da questa parte Oppure da questa parte Farò tipo una torre Un po' alta Dove appunto Avremo la possibilità Di andare dall'alto A vedere cosa succede Dunque sono le due di notte amici Il personaggio ha veramente fame Quindi è ora Di Sbagliato Ho schiacciato la T Allora questa là Questa è con la luce Dell'elmetto Così è senza Quindi bisognerà Un po' Sento dei rumori Brutti Di cani Che ululano Cani zombie Bisognerà quindi aumentare le luci Detto questo Direi Prima cosa da fare È mangiare Quindi mettiamo qua Mettiamo qua E gli diciamo Che vogliamo No io direi Questa qua Viamo Ce ne ha 8 di queste C'è tutte quelle che abbiamo Bisogna mangiare E bere Già che ci siamo Scarico un po' Di Schifezze Tra virgolette Schifezze Che ho trovato In giro Questo Questo Via Ecco Una cosa Che volevo domandarvi Se voi lo sapete Se sapete Come Ricostruire le cose Perché Non sono andato ancora A vedere come si fa Però si possono ricostruire Tramite questi pezzi Guardate là Stavo dicendo Ricostruire tramite Questi pezzi Appunto Delle Delle armi Quindi Possiamo fare delle armi Tra l'altro abbiamo Un launcher receiver Per fare il rocket launcher Eccetera eccetera Poi ho trovato Degli schematic Che noi ci prendiamo E andiamo ovviamente A sbloccare Sono schematic Che per avere Ad esempio In questo caso Abbiamo gli iron boots Cioè Ovviamente le scarpe d'iron Questo sblocca L'SMG Perfetto Questo sblocca Il martello Fantastico Anche questo Andiamo a leggerlo E questo ovviamente Sblocca Lo shotgun Ecco Cosa importante Ovviamente Quel Quel valore Che vi ho detto prima Intanto qua Stoppiamo il fuoco Personaggio Brontola Dalla fame E noi Mangiamo Mettiamo anche La clay Al suo posto Ne avanziamo 182 Benissimo Mettiamo qua Questo Qua Mettiamo Dove Si mettono Questi qua Adesso vi faccio vedere Anche il giardino Cosa importantissima Questi ce li portiamo via Questi qua ce li mangiamo Questi qua li possiamo mettere qua Siamo pronti all'esplorazione Puntata dedicata all'esplorazione A farvi vedere cosa ho costruito Ma ovviamente anche l'esplorazione Intanto andiamo di livello Sopra e sopra di livello Adesso il personaggio ha sete Perché ovviamente questo gioco È abbastanza realistico Attenzione che gli zombie ci sentono Sentono il nostro odore Anzi l'odore della carne Che stiamo mangiando Quindi andiamo a mangiare di brutto Ok Perfetto Siamo arrivati addirittura A stamina 83 Questo ma andiamo via Qua beviamo La Due belle sorsate Che fanno sempre bene Perfetto Il nostro personaggio Devo dire che È abbastanza messo bene Ok Credo che Sì C'erano zombie che striscia Allora il nostro orto Abbiamo amici Patate Tre Blueberry Due Due di coffee beans Altri due di coffee beans E ovviamente Dei corn Ok Da questi possiamo ricavare Ovviamente Possiamo mangiare la patata Oppure Ricavare altri Potato seed Ed è proprio quello che vogliamo Perché noi vogliamo Da una patata Ricavare altre tre Da tre Ne ricaveremo nove Ad esempio E via via così Idem anche questi Ovviamente Corn seed E ovviamente Coffee beans No Coffee beans Ce ne già da due La pianta Quindi possiamo Assolutissimamente Assolutissimamente ripiantarli E blueberry Ne abbiamo due Quindi le ripiantiamo Quindi questo è per quanto riguarda il nostro giardino Giardino che andrò ad ampliare Off camera E poi ve lo farò vedere Credo di sì Però Ditemelo voi nei commenti Ma Pensavo di fare questo Questi li sbatto Direttamente qua Per ora Giusto per E anche questo E poi li andrò a ripiantare Non perdiamo altro tempo Andiamo avanti Anzi Passiamo di qua Perché così vi faccio vedere Spengo sta cavolo di luce E andiamo sotto qua Nel nostro bunker Allora In realtà c'è la porta del bunker Da costruire E credo che sia questa Anche se questa qua Mi sa che è quella verticale Si potrà mettere In orizzontale Non lo so Vedrò di capirlo Detto questo Possiamo andare ancora avanti Passare di qua Perché vi faccio vedere Il passaggio che ho fatto Fantastico Guardate È un po' buio Anzi forse conviene accendere la luce questa Andiamo sopra di qua E andiamo sopra di qua E da qui usciamo Qua ho fatto una piccola struttura Non è ancora finita Eh qua Anzi addirittura qua ci sborrebbero Nelle scale Queste stairs qua Intanto andiamo avanti Con il crafting Anche perché Aumentiamo notevolmente Eh Mettila Ok perfetto Aumentiamo anche il nostro livello Facendo il crafting E da qua si esce E qua praticamente Si esce Con tutta tranquillità E possiamo Vedete Uscire da lì A qua Poi la mia idea Sarebbe quella Di andare più avanti Rispetto a lì E quindi usare quella Come una stazione intermedia È possibile farlo Vedremo se il tempo Ci darà ragione Nel fare questa cosa Ora La nostra direzione È là in fondo Andando a cercare qualcosa Che potrebbe farci comodo E stando attento ovviamente Agli zombie E ai cani In questa città Piove sempre Non so perché Ma in questa città Piove sempre Dunque l'idea È di andare Fino in fondo qua Stando ovviamente Attenti a cani E a zombie Lì c'è un cervo Potrebbe farmi comodo Il cervo In effetti L'ho preso? L'ho preso? Non lo so se l'ho preso Amici Non so se l'ho preso Adesso l'ho preso Ok il cervo Sta scappando Ma in realtà Potrebbe Con la freccia Che abbiamo sparato Ferirsi Ora miriamo un po' Pi' in alto Maledetto cervo Non so se Non so se è scappato E' caduto Vediamo un po' Di capirlo Ci sono altri zombie Qua nelle vicinanze Ed è caduto il cervo Quindi prendiamo questo L'unica pecca adesso E' che avremo La carne di cervo Che purtroppo Ci fa sgamare dagli zombie Quindi dovremmo essere Molto attenti Però Insomma Questa è un'altra cosa Tra l'altro abbiamo anche Le missioni secondarie Che abbiamo recuperato In giro da Fare Ma le faremo E Visto che siamo Da questa Già da questa parte qua Continuiamo di qua Oh Un coniglio c'era Ok Andiamo da questa parte qua Apriamo questa Cavolo di macchina Non troviamo niente Però Con la branch Mi avete detto Che Possiamo recuperare Dei pezzi Interessanti Tipo la batteria Della macchina Mi servirebbe Perché l'idea E' di fare Questa cosa qua Che mi avete scritto Nei commenti Cioè il mobile Spotlight Per illuminare Temporale E ci serve Ed light Lead car battery Quindi Vediamoci Se ci dice Che riusciamo a recuperare qualcosa No niente Abbiamo recuperato del fuel Delle molle Dell'olio A casa Meglio Meglio dire Meglio dire Meglio dire Che non è male Che non è male Che non è male Qua c'è stato Un casino Ok E dobbiamo Inoltrarci un po' In qua Perché Vedete che c'è Un rivenditore Giusto per fare Un'esplorazione Anche Guardate C'è un rivenditore Di macchine usate Quindi Macchine a go go Per cercare batterie E quant'altro Ed è fantastico Questa cosa qua Amici Perché Ci sarà da spaccare Magari nel prossimo Episodio Andiamo qua A spaccare tutto E nel prossimo episodio Amici Vi dico anche Ma questa la spacco già C'è pieno Veramente di macchina Sta arrivando uno zombie Nel prossimo episodio Vi dico anche Che vi darò Delle nuove notizie Un'altra Flashlight Del cavolo C'è luce Non flashlight Ok E nel prossimo episodio Vi darò ulteriori notizie Perché Stiamo attirando Mezzo mondo Perché Bug del paracaduto Lo vedete C'è un cane Là in fondo L'ho visto L'ho visto Il cane Ho visto Il cane Ho visto Un altro cane Spero di aver visto male No Invece ho visto Molto bene È un fottuto Cavolo di cane Via No 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 I cani No no I cani No Perché i cani No No i cani No Non ce la faccio più Non voglio avere i cani Non voglio che i cani Zombie Dai cavolo Cioè Eravamo arrivati Fino a 89 Di stamina Adesso ripartiamo Probabilmente Da 70 Spawn near Non 74 È scesa E abbiamo Addosso la carne Però abbiamo perso Tutti i nostri attrezzi Poco male Adesso li vado a recuperare Però Sti cavolo di cani zombie Veramente Sono una cosa Veramente fastidiosa Poi tra l'altro Mi avete scritto anche Nei commenti E Amon Perché Cioè Perché Perché Disattivato Gli zombie Che corrono Perché Per alcuni Alcuni piacciono A me Cani zombie E zombie Che corrono Non mi piacciono Preferirei avere Vedere Non avere Vedere Questo gioco Con Qualcosa di più Bello Cioè Mi piacerebbe avere Contro Più zombie Però avere Meno Meno Cani zombie Anzi Meno Nessun proprio Nessun proprio Cane zombie E neanche Nessun Questa mi serve Come arma 160 Abbiamo incrementato Un sacco il crafting E Nessun Zombie che corre Cioè proprio Nessun cane Zombie Nessun zombie che corre Ma più zombie normali Perché è un gioco Ambientato sugli zombie Cioè Sì Cani zombie Sì Gli zombie che corre Cani zombie C'erano in Resident Evil Come avete già scritto I zombie che corrono C'erano Basta vedere 28 giorni dopo 28 settimane dopo Sì Ci sono in quei film lì Ma non fanno parte Quei film lì Del classici zombie Sono già più evoluti A me piacciono un sacco Di zombie normali Cioè l'idea di avere Zombie che ti rincorrono Cioè ti rincorrono Ti camminano contro Ma tanti Crea Secondo me Molta più ambientazione Zombie che Questi qua O ciccioni che sputano Roba così Ora vado a recuperare Il mio zaino Dovrei essere morto Qua in zona Probabilmente dietro qua Sicuramente Ecco Lì è dove volevo andare Amici Nella banca Guardate il bug Del Mamma mia che bug Del paracadute Ok Allora Questa è la banca Ma devo recuperare Prima la mia roba Ok E' lì lo zaino Non c'è in giro Nessuno E' vero anche Che gli zombie Sono stati attratti Dal rumore Via tutto Arco 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 Dammi subito Questa E l'arco Subito Ok Proviamo a entrare In banca E come vi dicevo Amici Sono stati attirati Ovviamente Dalla carne Che avevamo Ora io Benissimo Banca aperta Distruggendo qua Guardate com'è curata La banca C'è veramente Abbiamo trovato Delle scarpe Ma noi le scarpe Ce le abbiamo Eh no E che cavolo Le scarpe sono utilissime Vai Scrappa questo Abbiamo fatto Una upgrade Anche del personaggio Ok in realtà qua E' un po' un problema Quindi facciamo una cosa Tattica Cioè mettiamo Provvisoriamente questo E qua Guardate Questo qua Per tirarlo giù 8000 è Quindi Chissà cosa c'è dentro Amici ma Lo voglio vedere E lo scopriremo Nella prossima Assolutamente Nella prossima puntata Dove Lo tirerò giù Amici Lo vedremo E in più Tra l'altro Questa era aperta Ho spaccato tutto Ma in realtà Era aperta Qua magari qualche medicina Un blood bag Ottimo Se siamo Ovviamente Se abbiamo qualche malattia Il blood bag Ci può essere utile Comunque Spaccare questo Anche questa è chiusa 2005 Questa Quattro Quattro Dentro Pepper Casino Toto Beh amici Allora direi Che per questa puntata È tutto Ci vediamo nel prossimo video Vi ho fatto vedere Le costruzioni Come stanno andando avanti E ovviamente anche Tutte le altre cose Abbiamo fatto un'ottima puntata Peccato essere morti Per quel cavolo di cani zombie Ma è così Purtroppo è così Però Per questa puntata è tutto Mi raccomando Un bel like Se vi è piaciuto il video Per far capire a me Che state seguendo Con passione Questa serie Mi raccomando Non dimenticatevi Da Amolus è tutto Ci vediamo Il prossimo video Ciao a tutti